E' un momento in cui le aziende hanno bisogno di capire questo, di capire come usare tutto questo, di capire dove stanno andando, anche perché ci sono tutta una serie di questioni che sono legate al mondo del lavoro che sta cambiando tantissimo, ma tanto, ma tanto, 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 ma per un motivo molto semplice, perché è molto più economico introdurre sistemi automatizzati di questo tipo che non pagare degli stipendi in più. E quindi questo sta rivoluzionando il mondo del lavoro, non vuol dire che porterà necessariamente via dei posti di lavoro, questo siamo tutti un po', no, dobbiamo ancora valutare, stiamo tutti cercando di capire chi ha ragione, chi ha torto, quanto sarà realmente la perdita, ammesso che ce ne sia, perché anche nelle rivoluzioni industriali precedenti si prevedevano tsunami che poi non sono avvenuti, ma la grande differenza è che forse oggi questi strumenti diventano fondamentali, come lo sono stati altri, nelle varie professioni. Quindi chi sarà aumentato usando correttamente gli strumenti continuerà a essere competitivo.